Secondo stop consecutivo per i Fiorenzola Bise, che devono arrendersi in casa di Lumezzane nel turno infrasettimanale di Serie B di basket. Partita sottotono dei gialloblu di Coach Galetti, con i padroni di casa che accumulano punti su punti dal secondo parziale in avanti e vincono nettamente con il punteggio di 91-68. La gara dei Valdardesi dura in pratica 4 minuti, Rubini e Alibegovic trovano il primo minicap per il 12-7, ma Lumezzane pareggia subito i conti e prende il largo già nel primo parziale sul 27-23. Si torna in campo ed è uno show di Mastrangelo e compagni. La tripla sulla sirena ancora di Mastrangelo porta agli archivi un primo tempo da 59-38 per i padroni di casa, con un clamoroso 63% dal campo e 9 su 15 da 3 punti. Match che prosegue su questi binari, al termine del terzo parziale, Lumezzane è ancora avanti 81-54. I Bise hanno un moto d'orgoglio nell'ultimo quarto con Alibegovic, ma la partita è già decisamente in archivio. Fiorenzola che rimane così a 14 punti in classifica, domenica ci sarà la possibilità di rifarsi al Palamagni contro Bologna. 64-84, più 20, 4-37 al termine della partita.